Dal sagrato della Basilica di San Francesco d'Assisi, Carlo Conti conduce una serata evento di musica, cultura e spiritualità. Grandi artisti della musica italiana in una gara di solidarietà per sostenere le opere francescane in Italia e all'estero. Per vincere di nuovo, tutti insieme, con il sorriso e con il cuore, nel nome di Francesco. Sabato alle 20.35, Rai 1.